Ciao a tutti e bentornati sul canale. Ieri ha nevicato, però chi è appassionato di una rampicata cerca di non mollare. Oggi infatti ci troviamo con gli amici per vedere cosa riesciamo a fare nella zona di Malesco delle Viette. Siamo venuti qui, c'è già con voi anche Ruggero. Valutiamo un attimo dove andare, probabilmente andiamo a vedere il sasso del ponte che fosse quello messo un po' meglio, diamo un'occhiata. Ho un mare di fegge qua, passiamo in mezzo Scendiamo, andiamo verso le Viette perché qui in effetti è un po' molto caldo, ma almeno siamo venuti a vedere un po' come era la situazione. Ecco il pilastrino. Lo proseguiamo, andiamo verso le Viette. Neve, prezzo, sole, temperature tipide, le Viette.